a secondo me poi non dovete neanche sparare ragazzi qua dovete andare subito a stis no ma va è loro che hanno sparato a kris qua sono loro che ne ha sparato gli siete andati poi in bordo beh uno l'ho fatto uno lì l'ho noccato per fumogeno non ne avete mai mai non ne avete mai ne ho dovuto tirare io tre ma per niente andiamo andiamo per caso prossimo e il pozzo non mettermi ci un macero quei posti di merda città gigantesche qua voi andate in posti di merda all'ellino solo prigione solo prigione l'ellino solo lì se solo solo prigione giocano a loro l'altro giorno c'era in partita zana ma non era con noi secondo me ci ha qualcuno stava no no era il random che l'ha fatto qualcuno stava secondo me stava guardare da solo lui penso di sì di uno guardare live si butta con voi poi muore una volta fatto cosi zana gand f*** morto madre Era fatto random Abbiamo un team sulla destra Due team Su team bro Ho visto ho sette persone Questo qua che ha preso la macchina Prendo anch'io la macchina Avendo subito da voi Non so, ci sono arrivati Credi di niente Sono morto No Credo che ne ha uno qua Un chie Crisco ne ha uno What the fuck He doesn't die Che l'ha strahittato Non muore la gente Che è con la macchina? Un po' pieno qua di macchine Porco dio Non scendeva Volevo suonare Non venire e crea a lottare qua Che non c'è un cazzo intanto Ma c'è gente dentro il ring Eh non lo so Ti lascio un car Qua è già lottato Ti ho lasciato un carcari dentro Ah boh ma c'è Hai lasciato tu il mini? Ma questo cazzo sto buggy Sta sparando al nostro Beh che ragazzi avete fatto suonare subito sta cosa Non lo vedo sto qua che li spara a lui Eh niente è lui C'è gente dappertutto Muoviamoci insieme Andiamo Aspetta aspetta Gente fuori dal ring Mi sa C'è 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 chi vuole Dove eri chi? L'ha fatto ok Andiamo uscendo qua Che non c'è niente Andiamo via da qua Manca un kit C'è C'è Gente dietro C'è C'è Grazie a tutti. 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 C'è un'altra, ce li avete dietro? Io vi dico solo questo l'azienda, poi vedete voi. Sì, no, infatti vengo lì. Cioè, comunque devono uscire dalla 255. Io sto guardando, vengo indietro, ma sto guardando. Avevamo uno qua, raga, ne avevamo uno qua vicino a 25. Scende quello là dalla collina. Lontanissimo. Lontanissimo. Questa è 4 su 5. Questa è la parola. Dove l'ha preso? Dove l'ha preso? Dove l'ha preso? Eh, fuori safe Oh WTF Oh my god Damn Yes C'era un headshot Non ricordo C'è gente di qua raga, 35 Occhio eh 60 tipo Si a me continuo a laggare E' brutto Guarda lì che lo vedo 1, 190 Anche altro che non sento Con queste cofie a destra a sinistra Si sente benissimo Ah destra a sinistra si, ma avanti e dietro Avete dei 5 che non ha 96 Guarda dietro, l'ho sentito e mi son girato subito qui 190 dove l'ho sentito 5 Chrisco You have a 5 Ammo, green ammo Vabbè, sopra la montagna Si Non lo so, penso che si, thank you Proprio sopra in altro uno eh, guardalo 190 Altissimo Proprio sopra eh, sul cucuzzolo della montagna No, ma ce n'è più di uno, perché? Non li vedo e sparano Oh questo qua con l'agliante Oh Scusa, quello della zienda, scusami Ah boh, ha fatto tutto il giro largo secondo me Boh, bitch, ma vai giù merda Non chiedevo con una bella hit Senti l'orecchia a sinistra Questo qua 110 Io sonooo, vuoi cercare un riparo qua E qui ce l'ho Ne abbiamo uno 110, Ricky qua Questa roccettina qua infame Guardalo uno di sotto Questo cosa fa? Questo con la padella mi voleva fare raga Non arriva qui non dentro con la padella Mi aveva spavano a te? Quindi si sa che non sparano a me Ma è sparano a me What the f... Ma qui che me l'ha rubato? di brutto la voittata He was here on the road No, 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 a me è arrivato una fiammata Cagano al piazzo questi ho Piance del fumo, ok Ok c'è gente di scuola montagna grande a 75 Pivedono Figa ma hanno inculato pure la chilo Me l'hanno pure inculato Ok c'è uno qua, qua che c'è uno qua dentro eh Inside this bugle, no, maybe one Vedo anche gli altri Two, two, one seventy Two of them Sono in casa li vedo quelli là, 770 Eh 190, going to the house Behind the wall He's set Un po' di fumoglio Vado ma l'ha rubato, io non ci posso credere Ma dov'è dentro? Tato Io vado in se Non ne vedo mezzo io Le finestrelle Non c'è un casco qua Qua c'è l'uno, guarda Vado Guarda che lo vedo All'angolo lì a 145 Sì ce n'è Due 150 Questi qua ci puntano qua dietro eh Ancora qua sono Ma questi devono uscire eh Stanno uscendo eh Stanno uscendo due One more Un altro Ok Ok c'è sempre questi qua qui eh Farò uno da sinistra Sì Sono qua davanti a me Uno è lì a 145 dietro la roccia Come ho fatto a mancarlo Come ho fatto a mancarlo? ok, è stato hit ok, è stato il 9, è stato ho bisogno di 5-5 ok, ok, ok ok, ok andiamo andiamo ora sempre lì dietro la roccia faranno la sopra siamo in una posizione di merda lo vediamo destra sinistra diciamo questi qui ci stanno uscendo che figa c'è un altro lento oh one more c'è uno di davanti un altro un altro spin oh f***go what the f*** siamo 3 contro 1 l'ho visto e là sopra sopra dove ricaricare qua davanti a me 40 la struttura forse ma l'ho visto ma l'ho visto partita di merda figlia una key 3 roba di partita